Grazie a Fonseca e poi a Rick Karsdorp. Presente invece in sala l'inviato di Sky Sport Angelo Mangiante, a cui lasciamo la parola all'inizio della conferenza. Vai Angelo. Buongiorno. Una partita in cui si respira veramente l'aria di una grande attesa a livello proprio internazionale. Che tipo di atteggiamento vuole vedere dalla sua squadra? Che tipo di mentalità vuole vedere in campo domani? Tutti noi sappiamo che magari è la partita più importante della stagione fino adesso. E' importante capire che dall'altro lato sta una squadra fortissima. E' importante non pensare alla partita di Amsterdam. Io voglio una squadra che voglia luttare fino alla partita come se non abbiamo avuto l'altra partita. Una squadra con l'atteggiamento che abbiamo visto in queste ultime due partite. Una squadra che vuole luttare per vincere questa partita difficile, sapendo che Ajax vuole anche vincere. E' una squadra fortissima. Ma io so che i ragazzi capiscono la importanza di questo momento. Domanda da parte di SPN Olanda. L'Ajax ha una grande reputazione in trasferta in Europa, per esempio a Madrid nel 2019. Cosa ne pensa? E' per questo che io parlo, e ho parlato sempre anche dopo la partita di Amsterdam, che l'Iran non è chiuso, perché io so la qualità dell'Ajax e so che loro vogliono arrivare qui per vincere. E per noi è importante capire che il round non è chiuso. Dobbiamo giocare concentrato, dobbiamo fare, come ho detto prima della partita con Amsterdam, una partita perfetta se vogliamo passare il round. Corriere dello Sport. Calafiori ha sottolineato con Garbo che in Italia non c'è coraggio nel lanciare i giovani. Per come lo ha visto ad Amsterdam, Riccardo può giocare dall'inizio una partita così importante? Sì, Calafiori giocherà domani, ha entrato in Amsterdam molto bene e giocherà domani. Il romanista. Fatte alcune analisi, abbiamo notato che la Roma a volte concede occasioni da gol banali per semplici disattenzioni di lettura o di postura dei difensori. Nello specifico, soprattutto gli esterni, in fase di non possesso, non chiudono bene le traiettorie o sono attratti dal pallone e non guardano gli attaccanti in area di rigore. C'è stato tempo in questi giorni per fare un ripasso specifico? Le partite a questi livelli si decidono spesso proprio sugli episodi. Sì, questo tipo di partite sono partite dove i dettagli sono molto importanti. Noi abbiamo fatto le nostre analisi, come facciamo sempre, e abbiamo lavorato su questi dettagli difensivi. È importante la squadra rimanere sempre concentrata difensivamente, perché loro sono una squadra molto forte offensivamente. Il tempo. Sarà una partita con una forte componente emotiva. Ha preparato qualcosa per evitare quei momenti di panico che capitano alla squadra, come ad esempio all'inizio del secondo tempo ad Amsterdam? Io penso che tutti noi abbiamo la capacità di capire che questa è una partita che non possiamo sbagliare. Dobbiamo essere concentrati, dobbiamo essere emotivamente equilibrati. E questo equilibrio è importante. Nella partita di Amsterdam abbiamo avuto una situazione difficile in cui loro hanno fatto il gol, ma la squadra è rimasta sempre equilibrata e abbiamo cambiato la partita. E questo è l'equilibrio emozionale che io voglio per questa partita. Cosa pensa dell'apporto e dello sviluppo di Karlsdorf? Karlsdorf sta facendo una grande stagione. Ha imparato molto, sta con fiducia. Io penso che ha spazio per imparare più, per migliorare, ma sta facendo una grande stagione. Domanda da parte di Rete Sport. Un aggiornamento sulle condizioni di Smalling. Può rientrare in campo per l'ultimo mese di stagione? Smalling ha iniziato adesso il lavoro individuale in campo. Penso che sarà vicino di ritornare, ma è una questione che è una questione di fiducia dei giocatori, se si sente bene, se non si sente. Ma penso che sta vicino di ritornare. Domanda da parte di Centro Suono Sport. Salve mister, contro il Bologna avete sofferto molto la pressione alta orientata a uomo della squadra di Mijalovic. L'Ajax non esce uomo su uomo, ma è comunque una squadra aggressiva che cerca il recupero alto. La preoccupa quanto visto dai suoi contro il Bologna in uscita bassa sotto pressione? L'Ajax è una squadra che pressiona sempre alto, è una squadra che pressiona molto forte. In molti momenti, uomo uomo, e noi abbiamo visto questo, abbiamo preparato, abbiamo analizzato anche la partita con Bologna. Penso che nel secondo tempo abbiamo migliorato questi momenti. E penso che è un momento importante, sarà un momento nella partita importante contro l'Ajax, uscire da questa pressione forte dell'Ajax. Abbiamo analizzato, abbiamo lavorato questi giorni, questi momenti, e penso che siamo preparati per questa pressione forte dell'Ajax. Domanda nostra da parte di Roma TV. Prima ci diceva che non cambierà certo l'atteggiamento della Roma, perché si riparte praticamente da 0-0. Le chiedo però se cambierà dal punto di vista tecnico-tattico la partita, visto che comunque c'è un risultato acquisito sul campo una settimana fa, e come arriva la Roma dal punto di vista mentale e fisico rispetto a sette giorni fa? Fisicamente e mentalmente molto bene. La squadra sta motivata, la squadra ha capito l'importanza di questa partita, di questo momento. E dopo abbiamo preparato strategicamente la partita, come facciamo sempre. Come ho detto, è una squadra difficile da affrontare, è una squadra molto forte, è una squadra molto forte a pressionare, ma abbiamo preparato questi tutti i momenti per non lasciare Ajax fare quello che vogliono. Ringraziamo Mr. Fonseca. Grazie, arrivederci. Attendiamo un attimo Rick Karzdorp Grazie a tutti. 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 Karzdorp che sta arrivando e quindi attendiamo che prenda posto e poi andiamo a seguire la seconda parte della conferenza stampa pre-partita di Roma Ajax. Eccolo qui. Pronto? Andiamo. Allora, possiamo iniziare con le domande per il calciatore. Vai, Angelo. Pregge. Pregge. Può fare le domande per il calciatore. Ma puoi anche scrivere le domande per il calciatore. Se volete. Riki, tu sai molto bene Ajax. Quindi, quale tipo di reazione ti aspetti? L'Ajax è una squadra che vorrà pressarci, è una squadra che vuole avere la palla, pertanto mi aspetto una pressione alta da parte dell'Ajax, ma anche una squadra che vorrà fare molto po' stesso palla, ma anche noi abbiamo le stesse intenzioni, sarà una partita interessante. Quante sono le possibilità di passare il turno e quanta soddisfazione ti darebbe vincere contro l'Ajax da ex Feyenoord? E poi, più o meno la stessa domanda della Gazzetta dello Sport che ti chiede, vivi questa partita come un derby da ex giocatore del Feyenoord? Ajax-Feyenoord è una partita speciale, è un derby molto sentito, un po' come un Roma-Lazio, ma adesso sono un calciatore della Roma, per cui non è Rick contro Roma, non è Rick contro l'Ajax, ma è Ajax contro Roma. Mi aspetto una bella partita, bella quanto quella dell'andata ad Amsterdam, vogliamo superare il turno e domani lo vogliamo dimostrare sul campo. Per cui è una questione che hai disputato fino adesso. Credi di meritare l'Europeo? Nel ultimo tre anni, effettivamente, nei primi due anni avevo giocato poco. Quest'anno sto tornando sui miei vecchi livelli. Non sono ancora al 100% credo, ma sono sulla strada giusta. Credo che questa domanda vada rivolta a qualcun altro, non a me. Io faccio il mio lavoro, cioè giocare a calcio, quello che mi piace fare. Voglio continuare così anche la prossima stagione. Adesso devo essere concentrato sulla Roma e non sul campionato europeo. Che sensazioni speciali ti dà affrontare un team olandese? È chiaro che è speciale per me. È olandese che ho giocato nel campionato olandese. Adesso giocare in Italia contro una squadra olandese è stimolante, è bello. L'Ajax è una squadra a cui piace giocare bene a calcio, piace fare pressione, ma anche a noi piace fare questo tipo di partita. Non vedo l'ora di giocare domani. Sarà una partita interessante. Hai mostrato una grande crescita dall'inizio di questa stagione. Sei al top della tua maturazione oppure cosa ti manca per esserlo? Non direi che sono ancora al top. Al massimo, un giocatore deve sempre migliorare. Io sono ancora giovane. Ho ancora del margine di miglioramento. Ho voglia di giocare quante più partite possibile, giocarle ad alto livello, con regolarità, con costanza, essere pronto, farmi trovare pronto. Questo è il motivo per il quale ho rinnovato con la Roma fino al 2025. Mi sento a mio agio adesso. La scorsa stagione è anche stata importante fare un passo indietro e tornare al Feyenoord. Adesso sono tornato di nuovo alla Roma e quest'anno sto giocando con regolarità con il mister Fonseca. Devo continuare a esprimermi su questi livelli e spero di poterlo fare fino al 2025. Nel tuo ruolo, quello di terzino, quali sono le differenze tra il giocare in Italia e il giocare in Olanda? Cosa chiedono di diverso i tuoi allenatori? Credo che ci siano molte differenze. Ovviamente dipende dal mister, il nostro mister è portoghese, quello dell'Ajax è olandese. Probabilmente ci sono delle sfumature tattiche in base alla nazionalità dell'allenatore. In Italia si dice che sia un calcio più tattico, più difensivo, ma direi che anche in Olanda adesso si stia prestando più attenzione a questo. Quindi più che altro direi che dipende dal mister come vuole giocare, se ha tre dietro o a cinque o con una linea quattro. Credo che sia questa la differenza principale. Grazie. 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 Grazie.